Eccoci qui ragazzi allora, benvenuti in questo nuovo video un po' particolare perché volevo parlare un pochino con voi dell'Inter, della squadra attualmente prima in classifica a più 6 dalla seconda che da molti è considerata la capolista peggiore nella storia della Serie A, ma non della Serie A, del calcio mondiale. Allora ci ero ragionato un pochino, ho detto ma è effettivamente vera questa affermazione? Oppure molte persone parlano per sentito dire? Prima di cominciare vi dico due cose preliminari. La prima è che sono usciti due video importanti sul secondo canale, il gladiatore nerd, mi raccomando segnatevi questo nome, il link lo trovate in descrizione. La seconda cosa, voglio subito premettere che non faccio questo video per difendere l'Inter o per fare il cavaliere della capolista, a me non ne viene nulla, cioè non guadagno nulla e tra l'altro l'Inter non è che mi sta particolarmente simpatica, quindi tutto voglio fare con questo video, meno che accaparrarmi la parte di tifosi nerazzurri che mi verrebbe a dire bravo, ci difendi, bravo, dici che l'Inter è forte, eccetera, eccetera. Non è questo il mio obiettivo, quindi prima ascoltate le mie parole e poi giudicate effettivamente il mio pensiero. Io credo prima di tutto una cosa, che gli interisti non dovrebbero pensare di essere, diciamo, gli unici odiati in questo momento, odiati sempre in termini calcistici, perché leggo molti commenti di persone, ah, rosicate, perché ci siamo noi, ce l'avete contro di noi, eccetera, eccetera. Io credo che questa sia una condizione che si ritrovano a giro tutti quando ottengono qualcosa che i tifosi di altre squadre non riescono ad avere. Mi spiego meglio. La condizione di essere primi è data di principio dall'esultanza di tifosi di quella squadra e in alcuni casi anche esaltazione, ma soprattutto del rossicamento e dell'invidia degli altri. Molto spesso, e lo sottolineo anche mettendo la Roma di mezzo, molti tifosi, piuttosto che dare i meriti agli avversari, si lamentano del fatto che hanno vinto una partita con un tiro, hanno vinto una zero, non giocano bene, eccetera, eccetera, perché vorrebbero essere loro al posto della squadra prima in classifica. È una cosa che si è ritorta, diciamo, visto che fino a qualche anno fa, anzi, fino all'anno scorso, era la Juve a comportarsi così, vincendo partite magari non in maniera clamorosa, e gli interisti gli andavano a dire, madonna che culo la Juve, vince sempre a culo, vince sempre una zero. Cosa vuol dire questo? Che in base a dove ti trovi in classifica, in questo caso al primo posto, la reazione degli altri è sempre parallela. Guarda caso, la tua squadra è molto più simpatica quando non lotta per grandi obiettivi. Che pensate voi? Che se la Roma fosse al posto dell'Inter non ci sarebbero le persone che verrebbero a dire, eh, vincono solo a culo, che schifo, che vergogna. Lo ricordo molto bene, nel periodo in cui eravamo primi con Garzia, all'inizio, cioè praticamente l'ultima volta che siamo stati primi in vita nostra, leggevo persone che dicevano, ah, questi con Napoli hanno vinto con tre tiri, con nel derby anche loro nel primo tempo potevano prendere... Sempre le solite scuse, perché, lo ripeto, è molto più facile, diciamo, dire agli altri che non si meritano quello che hanno, piuttosto che effettivamente affermare che sono una bella squadra. Purtroppo mi ci sono ritrovato anch'io in questa condizione. Quando vedevo l'anno scorso che la Lazio poteva seriamente lottare per il titolo, mi sono ritrovato spesso a dire, eh, ma che culo col Lecce, che culo col Cagliari, che culo qui e che culo là. La fortuna è un fattore che può effettivamente portare alle vittorie di trofei e alla crescita di un percorso. Ma voi pensate veramente che una squadra solo con la fortuna possa vincere i titoli, possa ritrovarsi a marzo a più sei dal secondo posto? La fortuna ce la puoi avere se magari in qualche partita fai pochi tiri, loro sbagliano due rigori, che ne so, e tu segna un tiro. Sicuramente oltre alla bravura tua c'è anche un po' di fortuna, ma non può bastare per un percorso intero fatto di 38 partite. Capite il senso del discorso? Ma lo ripeto, non lo dico per difendere l'Inter, perché questa purtroppo è una cosa che succede sempre quando una squadra si trova prima, perché gli altri, provando invidia, non riescono ad accettare tale cosa e vogliono, diciamo, che la propria squadra sia al loro posto. Capite il senso del discorso? Perché la Juve stessa, prima di questo campionato, era odiata ed è tuttora odiata. Perché? Perché era prima e perché non giocava bene, con Allegri soprattutto, tutti quanti lamentarsi del bel gioco qua, il brutto gioco, non riescono a giocare bene, non hanno una... Sono tutti fattori che vengono sempre ritorsi contro in base alla posizione della tua squadra. L'Inter in questo momento, sinceramente, non merita il posto che ha? È veramente la squadra più scarsa, la squadra che gioca peggio nel campionato? Non è che se tu non riesci a produrre il gioco del Barcellona di Guardiola vuol dire che non sia una squadra forte. L'Inter in questo momento è la squadra più forte del campionato. Lo dimostra dal punto di vista della classifica e anche dal punto di vista dei risultati. Perché voi direte, ieri siamo fatto un gol su un tiro, ma ieri è stata la settima vittoria consecutiva. si ottengono sette vittorie consecutive solo a culo? Non penso. Non penso. Cioè, era successo, sempre mettendo di mezzo l'Inter, l'anno di Mancini in cui vincevano sempre 1-0. Effettivamente, in quel periodo, c'erano state delle vittorie fortunate, ma chissà come mai, dopo non è andata più a finire in quel modo, perché se avessero continuato così, fino alla fine avrebbero vinto lo scudetto. Invece, quest'anno, si ritrovano a marzo in una posizione incredibile, importante. E qua, sicuramente, tanti altri diranno, eh, perché le altre calano, perché le altre sono calate, che campionato ridicolo. Questa è la cosa che mi fa arrabbiare. Questa è una cosa che mi fa arrabbiare da morire, perché si vuole sempre sminuire il campionato quando davanti non c'è la squadra che vuoi tu. E c'è la Juve, eh, che campionato di merda, e vincono sempre loro, cioè vincono, le altre fanno schifo. C'è l'Inter, eh, sì, ma che schifo le altre sono calate. Ragazzi, è normale, il campionato è così, è normale, ma è possibile che a voi non sta mai bene un cazzo? Scusate, scusate la parola. Però è possibile che quando la Juve è in vantaggio di più 10 a gennaio, che campionato di merda, che falle, già si sa come va a finire, adesso che c'è un'altra squadra che comunque ha una rosa importante, sta facendo risultati importanti, scusate la ripetizione, eh, ma che squadra di merda, eh, ma vince sempre a culo, è questo e quell'altro. Ragazzi, è una cosa ridicola, è una cosa ridicola. Io capisco che, allora, non sto dicendo che non ci si può perculare, non ci si può prendere in giro, è normale, ma sarà possibile non riuscire a vedere davanti a sé la realtà dei fatti? Tra l'altro, tra l'altro, proprio perché voglio confermare il fatto che non voglio difendere l'Inter, quando c'era il Milan, era la stessa cosa, è il Milan dei rigori, è il Milan qui, è il Milan là, ma, ma ragazzi, i rigori non fanno un percorso, nel senso, se ci sono, perché non devono essere dati? Qualcuno poteva non essere dato? Certamente, ma di quelli che sono stati concessi, quanti non ce n'erano? Effettivamente, ho sentito gente che si lamentava, perché con l'Udinese era troppo evidente quel rigore, e quindi c'era sicuramente qualcosa sotto, poi c'è un rigore che magari non si può, che è magari così dubbio, eh, ma quello era dubbio, quell'altro è troppo evidente, ragazzi, veramente, ma io non so se il rossicamento fa parte dell'italiano medio, oppure se è una cosa che capita anche in Spagna, anche in Francia, anche in Inghilterra, anche in Germania, perché è una cosa veramente allucinante, e lo ripeto, io non sto difendendo l'Inter, perché non mi stanno simpatici, Conte, non ne parliamo, la squadra in generale neanche, ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, dire che l'Inter è la capolista peggiore, perché vinci giocando male, è una stronzata, perché in un percorso di 38 partite, ci può anche stare che alcune non vengono giocate al massimo della forma, ma loro attualmente riescono a vincere anche quelle, e vi ricordo, come ho detto anche nel video di ieri, che non è per forza obbligatorio fare il calcio champagne contro chiunque, bisogna anche essere concreti, e soprattutto giocare le partite in base all'avversario che ti trovi davanti, e come esso si schiera in campo, come la Roma col Genoa, facendo un altro paragone, la gente voleva 4-5-0, ma un Genoa che comunque in un buon momento di forma, che difensivamente se la cavano, che sanno anche gestire bene palla, se tu andavi all'arrembaggio, lasciavi molti più spazi in contropiede, ti potevano segnare, la Roma ha deciso di essere più attenta dietro, poteva essere più cinica davanti, per l'amor di Dio, nessuna squadra è perfetta, però si può anche vincere così, non è che un campionato è meritato, solo se la squadra, che è prima, vince 3-4-0 ogni partita, ma cos'è sta storia? Il campionato lo vince la squadra, che rispetto alle altre, sa far meglio, sa ottenere il meglio dai giocatori che ha, riesce a fare un percorso più continuo, e l'Inter tra tutte, è quella che ce l'ha avuto più continuo, la Juve ha una rosa molto simile, anche forte, ha sullo stesso livello, ma è stata tanto discontinua finora, e la sconfitta con l'Inter stessa, il pareggio col Benevento, il pareggio col Crotone, la sconfitta con la Fiorentina in casa, la Juve è forte, ma attualmente l'Inter sta facendo di meglio, è sotto gli occhi di tutti, la classifica per me non mente, anche guardando il distacco tra Inter e Milan, perché il Milan dopo un'andata fantastica, è calato nel girone di ritorno, perché a parte con noi e col Verona, le altre non le ha vinte, e comunque per poter vincere il campionato, devi fare qualcosa di più, per questo motivo, io non capisco chi giudica l'Inter, ma gioca male, brutto, che schifo, che significa? Che significa? Serve concretezza, tra l'altro, a favore loro, va anche il discorso, che la situazione societaria, è critica, fidatevi che, non avere sicurezze economiche, comunque, avere una società che rischia tanto, non è facile per i giocatori, eppure riescono comunque a fare il risultato, a fare il gioco, a fare soprattutto punti, non è scontata questa cosa, perché molto spesso, quando ci sono situazioni di questo tipo, i giocatori perdono motivazioni, e soprattutto perdono punti, cosa che all'Inter, almeno finora, non sta succedendo, poi potete pure grattarvi, a me non me ne frega niente, lo ripeto, non importa chi vince il campionato, ma cercate di essere un po' coerenti con voi stessi, e analizzare quello che vi trovate davanti, non in base al colore della maglia, non in base a quello, perché l'Inter attualmente, non sta rubando nulla, poi rosicare ci sta, ma per l'amor di Dio, ma se al posto dell'Inter ci fosse la Lazio, ma io rosicherei come un cane, come è successo l'anno scorso, in cui secondo me, senza Covid, avrebbero vinto lo scudetto a mani basse, ma sicuramente, il rosicamento è un conto, non guardare in faccia alla realtà, è un altro, io mi sono sempre lamentato, dell'incoerenza, diciamo all'interno della tifoseria della Roma, ma qua la vedo proprio, da tifoseria a tifoseria, poi certo ci sono le parti malate, le parti intelligenti, su qualsiasi tifoseria, ci mancherebbe altro, come negli interisti attualmente, c'è la parte saltata, e la parte più coerente, comunque la parte più tranquilla, la parte che analizza bene le cose, ma è normale, cioè, se ci fossimo noi, ma sai quanti romanisti saltati ci sarebbero? È normale, perché dopo nove anni di dominio della Juve, qualsiasi squadra si trova al posto loro, si sarebbe trovata al posto loro, ci sarebbero tifosi saltati, e tifosi un po' meno, ma molti di più saltati, perché dopo quasi dieci anni, trovare una squadra che effettivamente può vincere lo Scudetto, e trovare la Juve come prima concorrente, e non come dominatrice, è una cosa clamorosa, ma da qui a dire che l'Inter non se lo merita, è una cazzata, è una cazzata, non difendo nessuno, non voglio leccare il culo a nessuno, perché so bene come funziona su YouTube, eh, fai questo video per leccargli il culo, perché sai che sono più persone, possono farti iscrivere, ragazzi, io con YouTube non ci guadagno una fava, non ci guadagno niente, ho un buon numero di iscritti, ma le visual sono quello che sono, lo vedete voi stessi, non ci guadagno nulla, e anche se questo video facesse 10.000 visualizzazioni, ci farei chissà che, ci potrei prendere il caffè la mattina, per dirvi, quindi io non ho nessun altro pensiero economico, diciamo, cioè è una cosa che mi è venuta in mente a me, che è venuta in mente a me, perché so bene che, se al posto dell'Inter ci fosse stata la Roma, sai quanta gente, sai quanti interisti, giuventini, milanisti, laziali, avrebbero rossicato dicendo, eh, ma non se lo merita, ma gioca male l'altro, a me del gioco bello, me ne sbatte il cazzo, poi certo, se uno riesce a vincere giocando bene, tanto di cappello, ma se io riesco a vincere, anche magari, tenendo più alla fase difensiva che offensiva, anche facendo pochi tiri, ma segnando in quei pochi tiri che faccio, me ne frega niente, non me ne frega niente, il bel gioco è bello, quando produttivo, io non è inutile che vedo, tic e toc e tic e tac e tic e tic, se poi alla fine magari vincono loro con un tiro, ricordatevi comunque, che se l'Inter fosse solo fortunata, e giocasse tutte le partite male, non sarebbe lì, fidatevi, perché un conto è una partita, un conto è due, in cui si può effettivamente dire hanno avuto fortuna qua, ma se tu ti trovi a quanti 60 punti più o meno, a 13-14 partite dal termine, in cui se continuano così possono toccare quota 94-95 punti, ma che gli volete dire? Che gli volete dire? Lo dico anche parlando a me stesso dell'anno scorso, perché io lo so, che mi sono preso tanti insulti dai laziali, per video diciamo polemici, dopo Lazio Lecce, dopo Cagliari Lazio per dirne due, ma infatti, ho capito, ho compreso, adesso mi reputo un po' più maturo, rispetto al me dell'anno scorso, perché ho analizzato, e ho capito che una squadra, se è solo fortunata, non va da nessuna parte, e dire che l'Inter oggi ha solo culo, quando in realtà ha una rosa forte, ha un allenatore, seppur antipatico, ma che capisce di calcio, grazie anche allo stipendio che prende, che comunque è dato proprio per raggiungere questi obiettivi, che gli volete dire? Non gli si può dire nulla, poi, che ci siano tifosi esaltati, è un conto, ma fidatevi, credetemi sulla parola, che qualsiasi squadra ci fosse al loro posto, avrebbe una parte di tifosi esaltati all'inverosimile, ve lo posso dire, se ci fosse la Roma, prima più sei, a marzo, sarei esaltato pure io, non vedendo solo dalla mia parte, ma sarei contento in una maniera esagerata, non massacrando gli avversari, per l'amor di Dio, ma essendo coerente con quello che vedo davanti, ma tanto sappiamo che è così, mettetevi in testa questo, qualsiasi squadra toglierà lo scettro degli scudetti alla Juve, sarà amatissima dai propri tifosi, ma soprattutto odiata da quegli avversari, che possa essere Inter, Lazio, Mila, Juve, Pizzighettone, Pizzighettone, Pordenone, Gubbio, Procaccolese, qualsiasi squadra vincerà al posto della Juve, sarà odiata dal resto d'Italia, più che odiata, invidiata, perché tutti quanti vorremmo essere al posto loro, e lo si chiamano che in questo momento, non ce lo possiamo permettere, semplice e chiaro. Un saluto dal vostro, Gleditore Giallorosso 94, non pensavo di far durare così tanto questo video, ma spero che abbiate capito il discorso, fatemi sapere cosa ne pensate, e lasciate un mi piace se volete per supportarmi, alla prossima, e sempre Forza Roma, ciao ragazzi!